capire dov'è il posto? ma si è lì quindi piano fai un po' di potenza ok raga bentornati missione improvvisata e ho tolto la chiamata per sbaglio quindi andiamo alla cieca non sappiamo come si chiama la missione ah infatti vai ok dopo distruzione di massa siamo arrivati ah l'elicottero raga qui è tuo eh è mio hey jacob è un po' di più 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 è facilissimo raga è un po' di più 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 No, 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 no. Non capisco, se vado così vado veloce o devo fare così per andare? Ma va a cagare maaa Vai giù adesso però Eh infatti Vai giù Ah no dov'è Ok scendi giù Piano Vieni piano Sì ma devo capire dov'è il top Ma si è lì Vieni piano Vieni piano Vieni piano Vieni piano A fare Vieni piano Vieni piano Chỉ Vieni mover Vieni piano Vieni piano Ok ragazzi, mission è completata, il vostro amato Curse Gamer è incazzato con me E noi ci sentiamo alla prossima, ciao belli